I carabinieri del comando provinciale d'Imperia nel fine settimana appena trascorso hanno compiuto un maxi servizio di controllo del territorio, intervenendo con successo contro diverse forme di criminalità. La compagnia di Ventimiglia ha arrestato una diciottenne straniera sorpresa a rubare all'interno di un'abitazione di dolce acqua. La compagnia di Bordighera invece ha arrestato una ventenne bosniaca sorpresa mentre tentava di allontanarsi da un'abitazione della zona dove aveva appena rubato gioielli e preziosi per un valore di diversi migliaia di euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. La compagnia di Imperia ha arrestato un trentenne straniero che aveva scippato una collana a una donna di cipressa e ha denunciato a piede libero una coppia di truffatori che si era fatta consegnare da un'anziana diverse migliaia di euro prelevata al Bancomat. Nel corso dei servizi di contrasto della vendita di merce con marchi contraffatti, le compagnie territoriali hanno complessivamente denunciato a piede libero 12 stranieri e posto sotto sequestro a 950 pezzi. Ancora a Sanremo nella serata di ieri è stata compiuta una retata in contrasto alla prostituzione. 23 straniere sono state portate in caserma per accertamenti e nei loro confronti potrebbero ora scattare provvedimenti amministrativi. Numerosi anche i controlli nei locali e lungo le strade. 8 persone sono state denunciate con ritiro della patente per guida in stato di ebrezza. Coronavano una nuova operazione di controllo del territorio, nuovi risultati, di che cosa si tratta? Il bilancio qual è? Il bilancio è positivo, anzi più che positivo. Già dalla scorsa settimana abbiamo iniziato una serie di servizi che si sono conclusi stanotte, servizi mirati al controllo del territorio che ha portato all'arresto di diverse persone per spaccio di sostanze sufficienti, una persona è stata arrestata per scippo, abbiamo sequestrato della merce contraffatta, insomma un'operazione di polizia a 360 gradi. E riguarda anche il fenomeno della prostituzione su Sanremo? Stanotte sì, abbiamo concluso l'operazione con i controlli delle prostitute su Sanremo e hanno permesso di trovare una ventina di prostitute circa, le abbiamo accompagnato in caserma, erano in regola con i documenti, ma comunque stiamo valutando la possibilità di fare mettere dei provvedimenti amministrativi a carico di queste signore. Sono circa 200 militari con l'ausilio anche di reparti speciali, abbiamo avuto anche l'ausilio dei cinofili. Ecco, Coronello, non un'operazione quindi legata soltanto al periodo estivo quando notoriamente si intensificano i controlli, ma un criterio di avere così visione del territorio puntando alla sicurezza sempre? Sempre, non è solamente un passaggio estivo, saranno predisposti i servizi durante tutto l'anno per dare maggiore sicurezza ai cittadini che sempre più la richiedono.